Come ogni anno di questi tempi a Gela accade che ci siano problemi legati al mondo dello sport ed in particolar modo a quello del calcio. È già successo e succede anche oggi. E le nubi all'orizzonte sono dense, sì perché qui si rischia realmente di disperdere un patrimonio. Stiamo parlando del Gela Calcio, cioè dire la maggiore espressione sportiva presente in città. In più di un'occasione si era detto che bisognava intervenire immediatamente per rendere agibile lo stadio Vincenzo Presti. C'è stata anche la visita degli ispettori della Lega Nazionale Direttanti. L'impianto sportivo di Contrada Giardinelli non è a norma e dunque nessuna omologazione al momento. Si deve intervenire soprattutto sul terreno di gioco. E i lavori, quando manca poco all'inizio del campionato di Sredì, non sono ancora partiti. Per oggi pomeriggio la società del Gela Calcio ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per valutare attentamente la situazione allucinante che si è venuta a creare a pochi giorni dall'inizio del prestigioso campionato e decidere sull'opportunità o meno di prendere parte alla competizione. Ieri dal Comune di Gela, attraverso una nota stampa, l'amministrazione comunale ha ribadito la sua ferma volontà a consegnare in tempi gerari alla città uno stadio omologato per la Serie D, secondo quanto indicato dalla Lega Nazionale Direttanti. Chi agita lo spettro di un disinteresse politico alla questione, si legge, soffre di ansia che, seppur comprensibile, è ingiustificata. Il settore lavori pubblici mobilitato da settimane deve rispettare i tempi legittimi dell'apparato pubblico affinché tutti i sforzi profusi per chiudere positivamente la vicenda non siano resivani da vizi di forma causati dalla fretta. In questo senso gli uffici sono già in possesso delle offerte progettuali, delle ditte individuate per interventi al manto erboso e, nonostante le difficoltà legate a questo periodo di ferie, già nei prossimi giorni saranno in grado di affidare i lavori. Intanto è utile precisare, si legge ancora, che da giorni sono alla lavoro gli operai per quanto concerne le opere relative a spogliatoi, tribuna stampa e altri locali destinatari di diffida della Lega allo stesso modo della rettangolo di gioco. Sacrificare un campionato conquistato con sacrificio per non tollerare il ritardo di qualche giornata equivarrebbe, chiude la nota, ad una disfatta iniqua davanti al suo più innocuo avversario. Non si è fatta attendere la risposta del club biancazzurro. Siamo felici che il Comune di Gela abbia reso pubblico il documento che attesta l'avvenuta approvazione della determina dirigenziale che di fatto costituisce il primo atto formale che, siamo certi, fra alcune settimane porterà al successo l'intervento manutentivo sul manto e in erba sintetica dal Presti. Vive congratulazioni per questo primo atto datato 23 agosto 2016, cioè bene quattro mesi e sei giorni dopo l'ultima partita. Ma forse, dice il Gela Calcio, abbiamo sbagliato i conti. Succede a chi soffre d'ansia. Chiediamo scusa.